Quali sono i sistemi di credenze che dovrei bonificare? Domanda suggerita dal Papa che è l'arcano che ci accompagnerà per la prossima settimana. Il Papa introduceva delle particolari nozioni da sfruttare come l'esigenza di studiare con un insegnante, oppure qualora fossimo noi all'apice di una conoscenza di essere noi gli insegnanti per qualcuno, approfondire il nostro sistema di credenze, perché quando ci sviluppiamo a mano che andiamo avanti lungo il nostro percorso non è detto che tutto ciò che ha rappresentato un valore per noi nel passato lo rappresenterà anche nel futuro, quindi proprio come noi andiamo a pulire, a fare pulizia del nostro mondo in modo oggettivo e tangibile dovremo farlo anche in modo spirituale del nostro sistema di credenze e quindi del nostro mondo interiore, tiraggio fatto esclusivamente con gli arcani maggiori, quindi imperatore, temperanza e mondo. Imperatore e temperanza danzano su concetti che seppur da radice a fine si sviluppano in modo opposto. L'imperatore dà un senso di profonda concretezza, pragmatismo e materialità, mentre temperanza essendo appunto un angelo relegata al mondo degli angeli può rappresentare la spiritualità, il metafisico. Relegata forse no, perché comunque è un angelo che sta toccando terra, ma sicuramente come esempio del mondo angelico, del mondo spirituale, è un elemento a favore dell'idea di spirito appunto, metafisico. Il mondo, sì, va bene, vuol dire la riuscita, la realizzazione, il successo, ma in una domanda del genere in cui chiediamo di bonificare, bonificare fa molto agrobontino, però intendo proprio di pulire, ecco che spunta fuori il mondo, mondo pulito, mondare, pulire, quindi un mondo, una energia di pulizia che sta guardando temperanza, che è appunto opposta all'imperatore e rappresenta quindi lo spirito, rappresenta tutto ciò che è opposto alla pratica e allora potremmo dire i sistemi di credenze che non ti hanno dato risposte pratiche, che non ti hanno permesso di sviluppare in pratica una soluzione oppure una risposta. Certo, questo tiraggio non significa che dobbiamo solo ed esclusivamente adottare quelle credenze e quei saperi pratici, ma quelli che non sono mai serviti a nulla in pratica o per mettere in pratica qualcosa, allora dovrebbero essere assolutamente bonificati, quindi puliti. Questo tiraggio è interessante perché ci fa vedere proprio, mette in luce una problematica del mondo spirituale che ci affligge oggigiorno, una spiritualità portata all'eccesso ma all'80% delle volte demagogica, nebulosa, che non serve veramente all'uomo, se non sia fargli prendere coscienza di qualcosa nel migliore di casi, nel peggiore invece ad essere l'ennesima nozione che sappiamo e che però ci raccontiamo. Mi raccomando approfondisci e personalizza queste nozioni anche se tutto questo ti risuona facendo un tuo tiraggio con il tuo mazzo di carte e i tuoi significati, questo ti permetterà di connetterti con il tarocco, con il tuo mazzo di tarocchi e con la risposta fornita. Ovviamente sul blog tarocchi.blog troverai comunque significati, possibilità di fare tiraggi automatizzati e così via. Buona settimana!